Ha incontrato il procuratore capo Antonio Ricci a margine dell'autopsia insieme all'avvocato e al medico legale di parte. Il papà di Simone, l'escursionista morto sui monti di San Giovanni a Piro in Cilento, prima di ripartire per la Francia, ha chiesto notizie sulla tragica morte del figlio. Ha chiesto soprattutto quanto abbia sofferto dopo essere precipitato nel burrone del belvedere di Ciola Andrea prima di ispirare e soprattutto ai magistrati di Vallo della Lucania che hanno aperto un'inchiesta, Gautier ha chiesto perché il 118 non lo abbia tenuto più tempo a telefono. L'ipotesi di reato è omicidio colposo anche se al momento non ci sono indagati. I familiari del 27enne transalpino vogliono vederci chiaro e si domandano se una maggiore attenzione avesse potuto cambiare le sorti della tragedia. Intanto il presidente del parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, rispinge le accuse. Sui monti dove Simone ha trovato la morte non ci sono sentieri dalla guida dell'area protetta salernitana, un duro già chiuso contro chi sta speculando sull'accaduto. Il parco oggi sta lavorando con le maggiori associazioni di categorie per mettere in sicurezza i sentieri, per cercare di creare le migliori condizioni possibili per far frequentare i nostri sentieri. Parlare oggi, accostare, tra l'altro in un territorio dove è venuta la tragedia non c'è nessun sentiero del parco, non c'è nessuna inadembienza. Allora anche su questo io penso che noi dobbiamo essere un pochino anche più orgogliosi dei nostri territori. Non può passare assolutamente il messaggio che il Cilento non è sicuro. Non può passare assolutamente il messaggio che da noi c'è incuria e c'è disinteresse. Noi rispetto a queste accuse che abbiamo letto sui giornali in questi giorni, addirittura qualche giornale nazionale ha parlato di aggressione da parte dei lupi perché nel Cilento, nel nostro parco, sono stati messi i lupi, cosa assolutamente falsa. E allora non possiamo accettare di essere nell'ango e di far mortificare un territorio che sta facendo tanti sforzi, tante iniziative per cercare di far venire fuori il meglio che abbiamo nel Cilento. Grazie a tutti.